Scegliere un corso di laurea triennale non è firmare un contratto col diavolo e costringersi per tutta la vita a fare una ed un'unica cosa, ma è certamente importante, nel senso che ci costringe, almeno per un pochino d'anni, a concentrarci su una disciplina e approfondire quella in modo molto 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 verticale. Quindi ho pensato che illustrare un po' ai naviganti quello che significa fare una laurea triennale in fisica possa essere utile. Ora, una laurea triennale in fisica è particolarmente interdisciplinare, nel senso che c'è una componente genuinamente matematica, perché è chiaro che siano necessarie delle basi di matematica. C'è una parte dei corsi di fisica che noi possiamo in qualche modo ricondurre a ciò che chiamiamo fisica teorica, e un'altra che ha a che fare con gli esperimenti, con ciò che ci si fa nei laboratori. Ora, una alla volta esplorerò queste tre facce di un corso di laurea in fisica, un corso di laurea triennale, quantomeno in Italia. Partendo dalla matematica, quello che un fisico deve imparare è prima di tutto gestire la matematica formale, l'analisi, l'algebra lineare, pezzi di matematica che vengono introdotti nelle facoltà di fisica in una maniera francamente molto simile a ciò che si vede nei dipartimenti di matematica veri e propri. A Trieste, addirittura, dove ho studiato io, questi corsi erano comuni il primo semestre del primo anno, quindi le basi sono molto generali e non hanno nulla di veramente specifico rispetto al percorso. Certo, si tende ad andare sul formale. Altri corsi di analisi, ad esempio in alcune facoltà di ingegneria, tendono ad essere un po' più applicativi, non tutti, mentre in fisica si posticipano un po' gli argomenti avanzati, magari a un corso di analisi 2 o analisi 3 dove la si fa, e a guardare un po' i dettagli delle prove fondamentali per abituarsi alla dimostrazione rigorosa che poi torna estremamente utile nell'affrontare gli argomenti più avanzati. A questo punto, costruita una buona base, ci si sviluppa in verticale. Si studia la statistica, che è chiaramente importantissima per chiunque voglia mettersi a confronto col mondo. Senza statistica non è possibile costruire un ponte fra teoria ed esperimento. Si procede con l'analisi, come dicevo, analisi 2, analisi 3, passando dallo studio di funzioni in una dimensione, da una dimensione a una dimensione, a funzioni in più dimensioni, ad analisi funzionale, qualunque cosa significhi. Stiamo parlando di spazi infinito-dimensionali di solito dove vivono le funzioni, ma non è così importante. Ciò che è importante è che qui c'è un vero senso di progressione, che richiede un lavoro molto serio ad analisi 1 per poi passare ad analisi 2, un lavoro molto serio ad analisi 2 per poi passare dove c'è ad analisi 3. A quel punto il percorso di un fisico diventa un pochino più specifico. Molte università offrono corsi di metodi matematici per la fisica che abbassano un po', abbassano un po', non tantissimo, dipende molto dal professore o dalla professoressa, l'asticella della formalità per raccogliere un'armeria di strumenti matematici necessari per affrontare i problemi della fisica. Si studia a volte qui, a volte in analisi 3 la cosiddetta analisi funzionale che menzionavo prima, assolutamente fondamentale per comprendere la meccanica quantistica. Si fa analisi complessa che diventa utile quando si studia ad esempio la fisica delle particelle o anche in certe applicazioni nello studio delle onde o di fenomeni un pochino più esotici, al di là poi dei dettagli di questa cosa qui, e si prosegue. A questo punto possiamo dirci che toccate tutte le caselle fondamentali si inizia a specializzarsi un pochino di più. Io, nel mio caso, ho studiato geometria differenziale e sistemi dinamici, pescando dei corsi dal dipartimento di matematica nel caso in cui non ci sia interesse verso la matematica in senso stretto, ad esempio se si vuole intraprendere un percorso un po' più sperimentale si può fare altro, fare dei corsi più applicati. Per ciò che concerne invece la fisica più teorica il percorso è abbastanza naturale. Si parte dai prodotti di Newton, questo è il punto di partenza se vogliamo della fisica in senso stretto, della fisica matura, della fisica adulta, quindi si dà per assodato tutto quello che viene prima. Generalmente i corsi di fisica non offrono lezioni di filosofia della scienza alcuni dipartimenti per capire cosa la fisica sia da un punto di vista filosofico e metafisico, alcuni dipartimenti lo fanno, ma come corsi a scelta. Dicevo, si comincia dalla fisica di Newton, quindi si studia la meccanica, con quella si costruisce la termodinamica e poi l'elettromagnetismo, coprendo quella che in genere chiamiamo fisica classica, che se vogliamo comprende anche una riformulazione più precisa, più accurata, più profonda della termodinamica che si chiama meccanica statistica, la roba che ha fatto Boltzmann prima di finire la vita in modo tragico, ma non è il tema di oggi, e a quel punto si salta nella cosiddetta fisica moderna. Dopo aver studiato magari un po' di chimica, il mio esame di chimica era molto importante, la dimensione degli esami di chimica dipende dalla facoltà, dal dipartimento, si passa alla fisica moderna. C'è la relatività speciale, c'è la meccanica quantistica che viene approfondita prima da un punto di vista storico, cioè quale è stata la crisi che ha portato al passaggio dalla meccanica classica, la fisica classica, a questa nuova fisica che ridefinisce il paradigma della fisica, proprio dalla base, no? Quindi per la prima volta si mette in discussione tutto ciò che ha costituito lo scheletro della fisica da Newton in poi per arrivare alla relatività speciale e ancora di più alla meccanica quantistica che è molto più rivoluzionaria nelle sue implicazioni e poi la si sviluppa in maniera un pochino più moderna usando ad esempio il formalismo che si è appreso nel contesto di un corso di metodi matematici. Molte lauree triennali offrono anche dei corsi introduttivi alla fisica delle particelle, quella che poi diventa teoria quantistica dei campi quando si va un po' più avanti. È un corso molto vasto esattamente come il suo collega introduzione alla fisica della materia dove viene offerto questi sono quelli che ho fatto io che coprono più o meno sia la teoria che gli esperimenti principali di alcune branche a volte c'è un'introduzione all'astrofisica a volte ci sono altri corsi di matematica piccole introduzioni alla relatività generale questo dipende un po' dall'università e dal momento specifico nel tempo perché anche le facoltà modificano i loro corsi nel tempo io posso pure non essere aggiornato su cosa si faccia a Trieste dove ho seguito il mio corso triennale ma sostanzialmente il discorso è un po' questo usate quello che vi dico come esempio non vi sto elencando tutti i corsi ma vi sto dando un'idea di cosa sia questa progressione da un punto di vista sperimentale le cose sono sono semplici ci sono alcuni corsi di laboratorio che portano ad andare a fare degli esperimenti con le proprie manine e a vedere come le teorie approfondite in aula poi si connettano al mondo vero e anche per chi vuole fare fisica teorica quei corsi sono assolutamente fondamentali insegnano a usare la statistica insegnano che ciò di cui la fisica si occupa è il mondo e spiegano quali siano le complessità di cui uno deve tener conto nel passare dalla carta a le molle i pendoli i liquidi con indici di rifrazioni in un vero laboratorio che alla fine è quello che ci deve interessare se facciamo fisica ora questo è un percorso molto interdisciplinare che porta ad affrontare esami diversissimi fra loro il tipo di pensiero il tipo di ragionamento il tipo di mentalità che richiede un esame di matematica pura è assolutamente diverso da quello che bisogna tenere in un esame di fisica ma lo dico in senso stretto in un esame di matematica è necessario un rigore formale assoluto diventa quasi un gioco monastico da miniatura quello di costruire una dimostrazione matematica inattaccabile mantenere lo stesso approccio in un esame di fisica porta a non concludere nulla a non portare a termine nessun problema a non ottenere alcun risultato in fisica possiamo dare per assodate molte più cose risultati noti possiamo assumere che certi oggetti matematici siano si comportino bene e non cercare proprio il contro esempio particolare che fa saltare tutto da un punto di vista matematico le cose sono molto più applicative anche negli esami di fisica più teorici quelli in cui si studia proprio il contenuto delle teorie fisiche da un punto da una prospettiva dei formalismi e quindi già vediamo due approcci distinti a cui poi si aggiunge quello dei corsi di laboratorio e di eventuali corsi di informatica di modelli che adesso ci sono in tutti i dipartimenti sono di assoluta e vitale importanza quindi quello che ti porta a sviluppare un corso di laurea triennale in fisica e quello che ti chiede di sviluppare un corso di laurea triennale in fisica è la capacità di avere tre cappelli sempre a disposizione il cappello del matematico il cappello del fisico teorico e il cappello del fisico sperimentale poi oh nessuno sarà eccezionale in tutti e tre salvo Enrico Fermi ma tutti per arrivare in fondo insomma tre anni di lavoro eh servono non bisogna saper fare ste cose prima ma dicevo per arrivare a sta benedetta laurea è necessario diventare quantomeno dignitosi e io francamente in laboratorio ero assolutamente non meglio di dignitoso non so nemmeno se questa dignità ci fosse fino in fondo ma è necessario essere dignitosi in tutte e tre le vesti con tutti e tre i cappelli quindi non c'è un singolo esame una singola lezione un singolo libro che possa dare una vera idea di cosa significhi fare un corso trenale in fisica e io consiglio consiglio di intraprendere una strada di questo tipo solo e soltanto a chi si sente pronto si sente in grado si sente in un momento della vita in cui può provare un po' di frustrazione perché abituarsi a tre maniere di pensare e qua la sto facendo la sto facendo semplice perché poi tra i vari esami la maniera in cui bisogna pensare è leggermente diversa ma dicevo abituarsi tre modalità di pensiero tre modalità d'azione tre tecniche no e metodi veri e propri nel senso di metodo scientifico e pratiche che dobbiamo adottare nei vari contesti può essere un po' frustrante soprattutto quando non si capisce bene dove si ha il confine tra matematica e fisica teorica o tra questa e nelle sue forme più applicative e fisica sperimentale ma una cosa è assolutamente certa per essere dei buoni fisici teorici per essere dei buoni fisici sperimentali per essere dei buoni fisici computazionali o dei buoni filosofi della fisica dei buoni matematici che si occupano di fisica dei buoni insegnanti di fisica o anche dei buoni comunicatori della fisica in una certa misura bisogna essere dei buoni fisici bisogna sapersi mettere i tre cappelli con dignità o quantomeno capire cosa questo implichi io vi ringrazio e vi saluto vi ricordo che iscrivendovi qua sotto potete in qualche modo restare aggiornati e aggiornate su quello che facciamo qui su spazi attorcigliati e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti un buco nero